con quale materiale viene costruita la testata in un motore a benzina diciamo che nella maggior parte dei motori a benzina la testata è in lega di alluminio in questo modo si ha il vantaggio di avere una testata più leggera rispetto a quella in ghisa e di presentare migliori caratteristiche di trasmissione termica e quindi di essere più facilmente raffreddabile questo materiale tuttavia ha degli svantaggi ad esempio ha lo svantaggio di essere più facilmente danneggiabile e di avere una maggiore espansione termica importante è ricordare che durante la riparazione della testata durante lo smontaggio e rimontaggio della testata bisogna assicurarsi di non graffiare o danneggiare in alcun modo le superfici della testata nella zona di accoppiamento della guarnizione della testata e della guarnizione del collettore o dei collettori inoltre le viti della testata devono essere serrate a motore freddo mai a motore caldo devono essere serrate con il metodo prestabilito nella sequenza corretta e alla coppia prescritta dalla casa costruttrice abbiamo inoltre due metodi di serraggio abbiamo il metodo convenzionale e il metodo di serraggio nella regione plastica a breve farò un video che spiega in che modo avviene il serraggio nella regione plastica esaminiamo adesso quali sono i componenti principali di una testata e allora avvaliamoci di questa figura qui nella figura abbiamo la sezione di una testata e tutti i componenti di cui che fanno parte della testata in alto troviamo i due alberi a camme sia l'albero a camme di aspirazione che l'albero a camme di scarico abbiamo le due valvole o le valvole di aspirazione le valvole di scarico abbiamo la molla della valvola abbiamo l'alza valvola lo spessore di regolazione lo scodellino della valvola il paraolio la guida della valvola e inoltre abbiamo i fori i fori dei collettori di scarico meglio i fori che portano sia il foro di aspirazione che il foro di scarico che portano ai relativi collettori grazie a tutti Grazie a tutti